Durante il lockdown non riuscivo a prendere sonno, così ho pensato che la cannabis potesse aiutarmi. Colto in flagrante, così si è giustificato un 43enne di Cassiglion Fiorentino, arrestato questa mattina dagli uomini della polizia municipale. Per lui l'accusa è quella di coltivazione senza autorizzazione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, infatti, durante i consueti servizi di controllo del territorio, i vigili avevano notato le piantine di marijuana nel resed di una casa nella montagna cassiglionese. I vasi erano nascosti da una recinzione di cannici, che però non è stata sufficiente. Questa mattina è così scattata la perquisizione domiciliare. Sono state rinvenute cinque piante di un'altezza che oscilla tra i 70 centimetri ed un metro e mezzo. Tre di queste presentavano anche numerose infiorescenze, la parte dove si trova il principio attivo della sostanza stupefacente. Per l'uomo domiciliato a Castiglion Fiorentino, ma di origini laziali, sono scattate le manette. Dopo l'arresto, il magistrato di turno ha disposto la scarcerazione. La sostanza, infine, è stata sequestrata a disposizione dell'autorità giudiziaria.